Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Io ho domandato a Hermann Goering, c'è molto che venivano arrivati a fare in modo che i tedeschi urlessano da ora, e lui ha detto, basta chiedere la fatta di arrivare a far imporre al popolo, perché un che ha imporre al croce che tu dici e al farce che tu gli dici di fare. E alla giornata, questo può fare il nazismo, il comunismo, può fare anche il potere del re e della democrazia. Beh no, a me mi pare che io vivino in un momento là che prima di tutto e sono mantenuto tante sicurezza, e invece non sono economiche e dopo anche dal punto di vista culturale, hai cambiato in pratica la vita. Non d'uomo, ma per ore, e si è giuntato il coronavirus, là che tu vedi che l'altro è come un pericolo per te. All'è un monte di paura che il costino vivino, no? E la paura, se l'è condividuto, si concentra, è diventata guerra, guerra civile o guerra con chi altri. O sai che dicono che queste cose non si fanno contengono, ma almeno non ci rendono 10 persone di pazza, di rapporto. Buona giornata e buona vita!